Buongiorno e buona domenica! Ci hanno appena portato la colazione. Com'è? Il tuo gusto? Tutto quello che hai chiesto? Perfetto! Questa è la vista solita dalla nostra terrazza. Lì giù c'è il porticciolo. Ecco, di giorno, chiaramente, qua a Positano non si passa, eh? Questa è la situazione. Qua hanno dei dolci eccezionali e dopo ci andremo sicuramente. Lasciati i bagagli, ho preso il biglietto del traghetto. Abbiamo tre ore per Paola, per? Andiamo! Ed eccoci da Zagara, top, eh? Positano, pasticceria al top! Allora, la Paola vuole assaggiare una specialità di qua, della costiera. Questa ricotta è vera. Che bello che è questo posto di Zagara, eh? Dove ci mettiamo? Con questo o quello? Quello! Questa è la vista da Zagara, con tutti i limoni sotto. Ricotta e pera, specialità della costiera amalfitana. E questa è invece specialità loro, di Zagara, qua, con le arance, scorze di arance, eccetera. Assaggio della torta. Paola se ne intende... Com'è? Ottima! Ottima! Adesso assaggia la torta Zagara. È squisita! È squisita, allora ho fatto bene! Sì! Assaggia la torta Zagara. All'assaggio! Adesso vediamo... Medito! Ottima! Ho meditato! Ottima! Assaggia questa! Ecco che stanno prendendo forma i sandali della Paola, su misura, giusto? Sì! Spiaggia di Positano oggi, bella, piena! Eccoci in spiaggia a Positano, qua c'è la Bionda. All'assaggia... Che stanno 선보�來 dire che... Positano! Afeittano! Asaggia! Haste seguita! Faccio! Faccio! Ho meditato! Fai Ara! 5ule! Non vorbereiti! Asaggia questa! Osaggia! Thiなん po sound! All'assaggia! Come va! All'assaggia! Ossanggia! Ho bella! Assaggia! Hei dormito! gibt da ma. Grazie a tutti.